La Verdi dove? Sì Il diciottesimo anniversario della straga di Capaccio, la visione del bifato sarà accompagnata dall'orchestra sinfonica del conservatorio Vincenzo Pevini di Palermo al quale va il nostro applauso e insieme all'orchestra ci sarà anche il coro delle posizioni anche diretto da Antonio Sottile e anche a loro, va il nostro lì e si ammette il nostro applauso Fin da bambino avevo respirato giorno dopo giorno arie di mafia, violenze, estorsioni ed assassini ma nella atmosfera di quel tempo respiravo anche una cultura l'avvento signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà una celibuità la cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente e come faranno lo stesso non dimentichi che il conto che è aperto con cosa nostra non si chiuderà mai è sempre del parere di interrogarmi le leavole dei palazzi di giustizia circolavano un rassicurante nuovo cuore il mafioso non parla mai, altrimenti sarebbe o un pazzo o un uomo morto l'aver dimostrato la vulnerabilità della mafia costituisce una forza anche per gli investigatori nella misura in cui dà la consapevolezza che i mafiosi sono uomini come gli altri criminali come gli altri e che possono essere combattuti con un'efficace repressione il padre e il bambino lo tiene per mano c'è tutto il destino e un palmo di mano le mani, le mani che sanno parlare che sanno guarire, che sanno fregare le mani, le mani, le mani ferite le mani, le mani pulite le mani, le mani pulite le mani pulite dean di lupi e allupi andani facciamo le mani le mani reg Issue le mani che sanno 만ire che sanno correre, che sanno stranare, le mani del pane che danno la fine, le mani del pane a sassi, 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 la vita è bellissima, viviamo la bella e la vita! Grazie! 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 Non pensare, non pensare, non pensare, non vuoi decidere, tu, mi resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Non pensare, 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 tu, mi resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Non pensare, 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 non pensare Grazie.